Ti faccio vedere io! Alzati i piedi! Mi sei rotta la voce, fermo, fermo, mi sei rotta la voce. Bombe ragazzi, benvenuti a un nuovo... Come si chiama sto video? A una nuova challenge di doppiaggio, dove ridoppierò scene famose di film famosi con delle altre voci che non sono quelle dei film famosi, dei loro rispettivi doppiatori. Allora, oggi ho in serbo delle sorprese per voi. Ve le voglio svelare piano piano, man mano che si vedono, ma prima di iniziare vi ricordo di cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno e iscrivervi al canale, vero? Perché così potete vedere tutti i video che pubblichiamo. Iniziamo col primo? Non vi dico né il film e né le voci, appariranno mentre le faccio. Vai Claudio, danni play. Giorno! Mi chiama Forrest, Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata di questi qui. Mamma mi diceva sempre La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Quelle scarpe devono essere comode. Scommetto che con quelli ci cammini tutto il giorno e non siete niente. Magari ce l'avessi anche io così. Mi fanno male i piedi. Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose. Dove va? Dove state? Quante scarpe che ho messo io. Scommetto che se mi sforzo tanto riesco poi a ricordare il primo male. Mamma dice che quelle mi portavano ovunque. Dice che erano le mie scarpe magiche. Alice Spongebob prepara i cramipatti. E questo era Forrest Gump con la voce di Mr. Krab. Che non seccano niente. Proprio per questo è una cosa divertentissima. Allora innanzitutto voglio dire che Forrest Gump è uno dei miei film preferiti di sempre. Mi sono sentito male a rovinarlo in questo modo. E Pannofino è spettacolare. Sotto Manx in quel film. Però insomma siamo qui per divertirci. Divertiamoci. Adesso ho un altro film. Non dallo spessore di Forrest Gump. Ma uno spessore fisico. Questo è il leggio che mi ha preparato Paolo. Guardate che merda. Vivo la mia vita un quarto di mezzo alla volta. Non mi porto a nient'altro. Né del mutuo, né il negozio, né la mia squadra con tutte le stronzate. Per quei dieci secondi io sono libero. Ve lo immaginate che bello Vin Diesel con la voce di Stitch? Ma non solo qui. In tutti i film. Sarebbe spettacolare. Firmate una petizione per far sì che Vin Diesel abbia la voce di Stitch. Ma non solo in Italia. Nel mondo. Che lui stesso parli con la voce di Stitch. Lui stesso. Il Riddick è un alieno. Il Riddick è un alieno. Ci sta. Che facciamo adesso? Ascoltate. Ascoltatemi. Oggi, oggi, ai limiti della speranza, alla fine del nostro tempo, abbiamo scelto non solo di credere in noi stessi, ma l'uno nell'altro. Oggi non esisterà uomo o donna qui che verranno lasciati soli. Non oggi. Oggi affronteremo i mostri che sono alle nostre porte e non proveremo nessuna paura. Tutti noi oggi cancelleremo l'Apocalisse. Harry. Pronto? Chi era? Gandalf Ossilente? Non lo so. Non lo sapete nemmeno voi. Non lo saprà mai nessuno. Scrivetelo nei commenti se era Gandalf Ossilente. Che facciamo? Però, senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella. Retto un sacco di merda. Io ti metto sotto, ti farò un culo così. Qui tu non riderai, tu non piangerai. Qui si è rigadretto e basta. Ti faccio vedere io. Alzati i piedi. Mi si è rotta la voce, fermo, fermo, mi si è rotta la voce. No, rotta la voce è un modo di dire. No, si è rotta alla fine. Papa. Però, senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella. Sì, devo bere, perché se no così in velocità minchia. Però, senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella. Ho rotto un secco di merda. Io ti metto sotto, ti farò un culo così. Qui tu non riderai, tu non piangerai. Qui si riga dritto e basta. Ti faccio vedere io. Alzati i piedi e tirati su. Datti subito una regolata, amico mio. Se no io ti svito il cranio e ti cago in gola. Signor, sì, certo, sì, sì. Sono andato Joker perché sei qui nel mio bene amato corpo. Signore, per uccidere, signore. Allora tu sei un killer. Signor, sì, signore. Fammi una faccia da guerra. Signor, sì, signore. Ma lei è una faccia da guerra? La mia è una faccia da guerra? Avanti con la tua faccia da guerra. Manca per il cazzo, non fai paura a nessuno. Voglio una faccia da guerra, quella della guerra. Non mi fai paura, ti ci devi applicare. Signore, sì, signore. Ma fa' c***o, minni. Sono anche inceppato. Mi sono anche inceppato. Minchia. Ma fa' c***o, minni, l'hai detto all'altro tizio. Ma fa' c***o, minni, l'hai detto all'altro tizio. Voglio una faccia da guerra vera. Dovevo fare, lì mi sono inpeppinato. Vabbò, capita ragazzi. Capita. Ah. Era una figata adesso, una figata pazzesca. E io, ne ho viste cose che voi umani non potrete immaginarvi. Da vita a combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi baleare nel buio vicino alle porte di Thumboyzer. E tutti quei momenti, andranno perduti nel tempo. Come, come, lacrimei, nella pioggia. E' tempo di morire. Adio. E-P-I-A. E-P-I-O-I-O. Mamma mia. Adio, sono morto. Max. Max, porco. Basta. Ho chiuso, ho distrutto un altro film. L'ho rovinato completamente. Con cosa lo facevamo l'ultimo? L'abbiamo detto. L'abbiamo detto di cambiarlo, ma non abbiamo deciso con che cosa. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste neanche immaginarvi. Navide a combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di Orione. Ma può far male come dico io, dico... Allora, io ne ho viste cose. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste... Io ne ho viste cose. Io ne ho viste cose. Te lo ricordi? Lupo de Lupis. No, Lupo de Lupis è così. Muoveva anche l'azienda di Bologna. Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navide a combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di Orione. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Pippo non l'ho mai fatto. Vai. Con gli amici di Pippo e Pietro della Noia. Quella avventura non manca mai. Buongiorno, ragazzi. Questa era una nuova challenge di doppiaggio. Challenge? È un po' un cazzeggios. Cazzeggios di doppiaggios. Dove mi diverto un po' a fare queste cose. Ma giuro che lo faccio al meglio quando sono in sale. Lo faccio seriamente. Non lo faccio così. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete. Fatelo vedere a Zig, Gugino, Pernando Combare, Naputo. A Tutquani. A tutta la compagnia, la combricola. Seguitemi su tutti i miei social. Ok? Che vedete qui in grafica. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Dove non so cosa dirò, né come. Ma lo farò. Aspetta, non chiudere. Voglio farti sentire un'ultima cosa. Sapete bene che per potenziare il fisico ci sono palestra e alimentazione. Ma per prepararsi alle challenge di doppiaggio bisogna allenare le corde vocali. Io di solito faccio dieci di questi esercizi. Nya-nya-nya-nya-nya-nya-nye-nye-yba Gom-gom-gom-gom-gom- capit 39 Uh Nie